Giuramento di Ippocrate Dopo la discussione della tesi, nel silenzio attento della sala affollata di parenti e amici, il presidente della commissione, il decano della facoltà, mi consegnò la pergamena del giuramento di Ippocrate. Il cuore mi batteva forte e per un attimo provai lo sbarrimento di quando, nell'anfiteatro chirurgico, assistetti per la prima volta a una procedura medica cruenta. Intorno a me cambiava tutto lentamente. Avevo la sensazione di trovarmi in un altro luogo dove si svolgeva una funzione sacra cui ero stato ammesso a partecipare. Intorno si udivano voci confuse e poi una sola voce, quella del chirurgo, che si rivolgeva ai tanti che scoprivo vicini a me. Mi sembrava di essere tutti insieme, presenti gli uni agli altri, ma allo stesso tempo distinti e separati. Questa condizione mi trasmetteva una gioia grande e sconosciuta. Avvertivo l'importanza del momento e il bisogno di trattenere nella memoria il maggior numero di particolari. Poi tutto svanì dolcemente e ritrovai i limiti angusti dell'anfiteatro e della sala chirurgica dove l'intervento terminava. Guardai il grande orologio alle mie spalle. Erano trascorse quasi due ore da quando ero entrato in quel luogo e non avevo percepito il passare del tempo. Gli anni successivi alla mia prima esperienza chirurgica passarono rapidi e sicuri. A ritmo regolare superai gli esami che mancavano al termine degli studi e nella tarda mattinata di un giorno di luglio conseguì la laurea in medicina e chirurgia. Cominciai così a percorrere la strada in salita della medicina e dopo trent'anni sono diventato primario di chirurgia generale. Ma il mio lavoro continua ancora oggi giorno dopo giorno ad invitarmi, ad obbligarmi, a stimolarmi e a stremarmi. Ho incontrato tante persone sofferenti e mi sono accompagnato a loro nella vita e nei paraggi della morte con interesse e rispetto simpatia e stupore affetto e pazienza superando talvolta l'insofferenza e molto spesso la stanchezza. Ho imparato molto dai pazienti tanti esseri umani di ogni età e condizione che hanno cercato un medico per risolvere un loro piccolo o terribile problema e mi hanno trovato mi hanno costretto a imparare e a correggermi hanno arricchito la mia vita con il loro esistere. Di alcuni ricordo i nomi i volti e le circostanze di altri che sono i più conservo insieme il segno e il senso delle esperienze a cui mi hanno chiamato con le loro speranze di aiuto. Commento Molti medici sono materialisti perché sono in continuo contatto con la materia e col dolore eppure anch'essi potrebbero trarre scatti evolutivi da questo contatto tenace. I maestri ripetono che potrebbero servirsi anche dei fatti più insignificanti che sono normalmente a pannaggio della medicina e che si incontrano negli ospedali. C'è l'ammalato che deve essere operato ed è posto in narcosi. Balbetta frasi apparentemente allucinatorie che a un chirurgo che non sia intimamente chiuso all'ipotesi della trascendenza potrebbero offrire dei dati indicativi. Altri parlano lingue sconosciute e accennano a fatti che non sono avvenuti nella loro vita. Tutto ciò sfugge di solito al medico di media evoluzione. La medicina è quella che cura lo spirito non solo il corpo il vero medico e chissà riparare i danni prodotti nel corpo dallo spirito inquieto. Ma molti medici con tanta scienza poco sanno di tutto ciò ed è molto se riescono a tappare le falle che uno spirito inquieto produce nel loro veicolo fisico. I maestri immateriali ripetono che l'uomo non è solo carne è principalmente spirito prima che carne. E curare la carne senza toccare lo spirito è cercare di contenere l'effetto senza rimuovere la causa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.